In un tempo in cui si assiste a guerre, violenze sulle donne, tragedie legate ai cambiamenti climatici, quest'anno in particolar modo il tradizionale concerto di Natale nella Basilica Cattedrale San Sabino di Canosa di Puglia vuole trasmettere un messaggio di speranza e di pace. Sono proprio gli aspetti, le tematiche a cui abbiamo preferito dare rilievo anche nella costruzione di questo programma o mirato proprio a questo aspetto che è uno di quelli che in questo momento sentiamo particolarmente. Il tema della pace credo non stia solamente a cuore a me ma un po' a tutti. Un appuntamento immancabile per la città di Canosa con l'orchestra sinfonica Nuovi Spazi Sonori che da 27 anni, per volontà di Monsignor Felice Bacco, diffonde i valori del dialogo della bellezza e della gioia attraverso l'arte e le melodie natalizie più famose. Abbiamo riscoperto attraverso alcuni canti anche tradizionali, la bellezza, la natività, il tu scendi dalle stelle, l'astro del cielo e poi alcuni brani che sono di autori contemporanei quindi che ci fa capire che il Natale si incarna, continua nella storia e entra nelle situazioni della vita di oggi. Sono stata travolta da una pace interiore che poi è completamente esplosa e spero che sia piaciuto a tutti i presenti, davvero sono emozionatissima. È stato bellissimo condividere il palco con dei colleghi strepitosi. È sempre bello tornare qui perché c'è un'energia che poche volte, in pochi concerti, si percepisce così presente. È veramente che sia un anno nuovo, magari eliminando tutte le brutture che ci sono in questi ultimi tempi e che la pace sia veramente di tutti gli uomini della terra. Grazie. 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 Grazie.